Guardi, fatta la premessa che anche un politico può essere un manager naturalmente se ha nel suo bagaglio una competenza, il tema di fondo è questo, non solo la progettazione ma anche l'esecuzione ha bisogno di competenze e naturalmente le competenze si sposano con i manager, poi ci può essere un politico manager, ci può essere un dirigente manager, noi siamo dei dirigenti d'azienda e ci possono essere dei professionisti manager il tema di fondo è che tutti noi abbiamo bisogno di competenze. Sarà una rivoluzione se noi passeremo dalle parole ai fatti e se come dice il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri sostanzialmente ci mettiamo a pancia sotto e concretizziamo, il nostro territorio ha spazi di intervento enormi e noi su questo non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo essere concreti e dobbiamo metterci al lavoro.